questo è un tour virtuale con molte panno c'è sempre un unico punto di inizio in genere corrisponde all'ingresso della struttura quindi se voglio arrivare ad una specifica panno interna devo partire dall'ingresso e poi selezionare la panno che voglio visualizzare usando la mappa o di menù ma con l'accesso diretto posso creare un link che permette l'ingresso del tour direttamente nella panno desiderata è possibile impostare anche la direzione e l'ampiezza della vista questo metodo serve quando si vuole mostrare qualcosa di specifico a qualcuno e si vuole indirizzare il visitatore subito sul punto di interesse molto utile quando il tour è composto da tante panno e contiene molti oggetti come in questo caso